È giusto che ci siano queste restrizioni, per l'amor del cielo, però per me la gonfiano un po'. Queste nuove restrizioni, allora, se servono, vanno bene. Sono d'accordo, sì, assolutamente. Quindi ce ne faremo una ragione come ce la siamo fatta. Le restrizioni stanno veramente ormai distruggendo le persone mentalmente. Purtroppo è necessario perché parecchia gente non rispetta le regole, soprattutto i ragazzi. Cioè il sabato, il domenica, il sabato, lockdown totale, quello sarebbero più giusti. Far lavorare tutta settimana. Accelerare le vaccinazioni sicuramente perché siamo lentissimi e le restrizioni, se ci saranno, le facciamo. Ma le nuove restrizioni va bene, però bisogna anche fare i controlli. Gli ospedali sono a tappo. La situazione non è ancora gestita dal meglio. Si potrebbe fare di meglio se la gente collaborasse. Io lavoro in ospedale. È un anno e mezzo che non viviamo più, né a casa né qua. Ci occupiamo adesso dei vaccini. Io non sono una di quelle che si occupa dei vaccini. La gente non ha ancora capito niente. Che se non ci mettiamo in mente che o smettiamo di respirare o teniamo un comportamento adeguato, qui non ne usciamo.